Se la linea anticertificato verde infastidiva i ministri e i governatori del Carroccio, ora che il segretario ha ceduto sull'estensione, a essere contrariati sono gli altri, quelli che appoggiavano le posizioni originarie. Non nomi di secondo piano, ma colonnelli del salvinismo leghista come Armando Siri, che dice, non condivido il metodo, i modi e l'approccio di questa decisione. In consiglio dei ministri hanno votato tutti a favore. Fuori, invece, continuano ad esserci sacche di dissenso. Colpa dell'ambigua linea tenuta da Matteo Salvini sull'estensione dell'obbligo di Green Pass che ha praticamente spaccato la Lega. Dopo settimane trascorse a spiegare che, secondo le informazioni in suo possesso, Mario Draghi non avrebbe esteso il passaporto verde ad altre categorie di lavoratori. Il capo del Carroccio si è dovuto arrendere alla pressione interna rappresentata dall'ala dei governisti guidata da Giancarlo Giorgetti e dai governatori, con in testa Massimiliano Fedriga. Un pressing che è riuscito a convertire, l'ex ministro dell'interno, visto pur che secondo tutti i sondaggi gli italiani sono largamente favorevoli all'obbligo di certificato verde. Dopo il via libera all'unanimità del CDM e all'estensione del Green Pass per lavoratori pubblici e privati, dunque, Salvini ha tentato di far buon viso a cattivo gioco. Se l'estensione Green è una sconfitta della Lega. No, giudico una vittoria dell'Italia quella che stiamo avendo contro il Covid, con tutta la scaramanzia del caso. La Lega è riuscita a evitare quello verso cui qualcuno voleva andare, l'obbligo vaccinale di massa, ha detto, cercando di cambiare argomento. Per la verità però, nessuno ha mai ipotizzato un'imminente introduzione dell'obbligo vaccinale. Mentre invece, non più tardi di otto giorni fa, Salvini aveva raccontato di aver saputo da Draghi che non ci sarebbe stata alcuna estensione del Green Pass.